No, no, guardate queste sono manfrine che mi fanno perdere tempo, mi alimentano la schiera di miei nemici che non sono i cittadini e non mi interessa proprio, cioè è fuori luogo questa cosa e lo dicono ad ogni tornata elettorale io sono candidato a tutto quello che passa per strada evitino di farmi perdere tempo, io sono concentrato sul vento, ho da portare a casa l'autonomia, la pedemontana, la TAV insomma tutto un sacco, assolutamente sì